one podcast questa è la cosa che dico sempre se il mondo fosse fatto di linus sarebbe un posto migliore perché l'umanità sommariamente è divisa in due cestoni i buoni e i cattivi e lui è nel cestone dei buoni ma dei buoni anche dei super precisi di quello quello potrebbe farlo essere del cestone dei cattivi perché il cattivo come dire scrive i nomi delle sue vittime con precisione primo febbraio 82 nasce radio dj da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi adesso però che i festeggiati siamo noi ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati che anche più comodo e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento si chiama claudio giunta eccomi qua sono pronto insegno letteratura italiana all'università ma sono soprattutto un fan di dj da quasi 40 anni e quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore da professore e da ascoltatore di ascolto e di studio io sono claudio giunta e questo è forti forti 40 anni di radio dj in 40 minuti bene sono i 40 anni di dj e oggi tocca a nicola savino buongiorno 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 claudio e tu avevi 15 anni quando tutto è cominciato avevo sì in realtà 14 perché poi io sono di novembre quindi quindi ascoltavi ti sei accorto quando è successa questa cosa della nostra di una nuova radio completamente sì io ascoltavo la radio dj quando ancora era tutta musica praticamente ho fatto in tempo a sentire la prima voce insomma che era quella di ronny anson tra ronny anson e gerry scotti va bene allora non so se per scherzo sul serio comunque ce lo troviamo adesso in tredicesima posizione è stato bocciato in finale degustibus non est disputando ma che parli parla come magni queste erano le prime voci che si sentivano a radio dj parlava in inglese tutto in inglese sembrava una radio sembrava una radio proveniente da marte era una cosa chiaramente a un'altra velocità un altro passo rispetto alle altre 15 anni ti sei detto ok un giorno qui io sì guarda ti devo dire la verità è la prima volta che lo dico mia sorella la mia sorella più grande Anna Maria che ha cinque anni in più di me lei ascoltava molto perché sempre stata molto attenta come dire alle tendenze al nuovo e allora mi sono messo anch'io ad ascoltare io ascoltavo un altro emittente mi piace un altro emittente ascoltavo 105 che era molto diverso era decisamente più direi più calda poi all'epoca perché poi radio dj è nata molto fredda essendo musicale è figurati in inglese c'è proprio una barriera un po stronzetta se vogliamo all'inizio poi piano piano è diventata addirittura bollente se 105 era calda e a scuola ne parlavi tantissimo tantissimo ne parlavo ossessivamente parlavo di radio sì 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 soprattutto gli anni a venire chi ascolta cosa cioè era argomento di discussione ma completamente completamente e in questo caso direi quasi elitaria sì saltiamo all'oggi e comincio dalla vita privata perché tu hai un bel modo di parlare dei fatti tuoi in radio sì pure troppo sì molti lo fanno però tu lo fai in maniera particolarmente direi affettuosa e ti volevo chiedere due cose una sui weekend romantici come stanno andando il weekend romantico è un'ossessione di linus che non avendo altra vita privata al di là della corsa dell'attività sportiva che vuole andare con lui no vabbè probabilmente la povera carlotta vorrà andare con lui da qualche parte però lui è estremamente razionale io non faccio altro che fare dei weekend tutto qui insomma appena ho un momento libero se un momento libero purtroppo non ne ho molti perché ho una figlia adolescente che non si può lasciare da sola oddio lei vorrebbe tanto che noi la lasciassimo da sola ma io temo temo disastri temo disastri che non avvengono poi puntualmente sulla filiera la seconda domanda come sta evolvendo il tuo dialettico rapporto con matilda sta evolvendo bene è una brava persona questo è quello che conta sanamente esiste questo avverbio sanamente sanamente impegnata nel distruggere la figura le figure genitoriali quindi è papi non fai ridere mamma non ti sai vestire no non è vero esagero esagero l'adolescenza mi ricordo un viaggio nello sri lanka da cui sei tornato piuttosto colpito perché c'era anche tua figlia insieme sì mi ricordo che fu quello il passaggio il coming of age dalla infanzia all'adolescenza non ricordo non lo ricordo come passaggio lo ricordo come diciamo ancora per se mi mi come dire mi evochi questo ricordo lo ricordo ancora come mia come nostra cioè a bei tempi no il viaggio dello sri lanka prima di tutto perché era un viaggio e non c'era il covid in secondo luogo perché era ancora al nostro seguito e non sbuffava in qualche maniera forse iniziavano le prime rimostranze forse iniziava a dire insomma ma dove andiamo quando arriviamo cioè quelle domande che fanno gli adolescenti ecco sempre parlando di viaggi tu sei un viaggiatore c'è uno che a cui piace vedere il mondo sì io sono un turista mio padre era un viaggiatore ed è un po da qui la forse la radice del mio viaggiare mio padre adesso viaggiava per lavoro ma viaggiava davvero perché era nel golfo persico in tutti i paesi che abbiamo sentito nominare per delle guerre mio padre c'è stato e ci ha vissuto e ha vissuto gli usi e costumi locali per lo più prima della rivoluzione islamica di Comeini del 79 quindi ha visto un islam anche un po non inquinato dal nostro modo di vedere l'islam di adesso però sì io cerco vanamente di emularlo e di essere alla sua altezza hai un paese che ti è un posto a cui pensi con nostalgia o con desiderio di tornarci non so a me piace l'islanda alla pina piace il giappone più che altro ho dei posti in cui non sono ancora stato e in cui vorrei andare è l'islanda che è isolata dal resto del mondo perché non è né Europa nella testa di un preadolescente quando ero alle medie mi ricordo mi innamorai dell'islanda probabilmente perché mi sentivo solo mi sentiva vedi anche tu mi facendo e allora misi un cuore che racchiudeva tutta l'islanda cioè l'islanda nella mia cartina geografica dell'Europa era proprio racchiusa da questo cuore era dentro questo cuore mi piacerebbe andare lì anche se una volta andai per lavoro con Sky andai a registrare a Rovaniemi non c'entra nulla con l'islanda è in Finlandia ma è oltre il circolo polare artico ci andai i primi di dicembre c'erano quattro ore di luce al giorno e questa cosa mi prese male mi prese male nel senso che è forte è un posto estremo mi piace per il suo essere estremo ma è stata una cosa troppo forte così forte e non so perché te lo sto raccontando lo sto raccontando agli ascoltatori di questo podcast che mi ubriacai mi ubriacai moltissimo ma moltissimo moltissimo e ho un ricordo brutto di questa esperienza cioè come dire per lenire in qualche maniera adesso non voglio farla più grande di quella che è ma l'esperienza così forte di essere in un posto così estremo ricorsi all'alcol ma non è mai una soluzione praticabile credo che Rocco Tanica abbia ricordi simili di quei posti eh vedi l'islanda è completamente diverso poi ne parliamo ok ok la stessa cosa ma diversa mi accadde alle Hawaii sono stato due volte alle Hawaii le Hawaii sono un luogo incredibile un luogo difficilmente comprensibile per chi è cresciuto come noi tutti nel Mediterraneo perché il mare delle Hawaii non è un mare dove tu vai e stai non è che dici vado al mare e mi metto lì al sole no infatti quando dicevano ma voi perché siete qui? cosa fate? fate surf? nuotate? fateci d'acqua? insomma volevano sapere il motivo no noi andiamo al mare e non capivano ecco le Hawaii alle Hawaii ricordo non dormii per tre settimane non tanto per il fuso orario quanto perché è un luogo anche lì così carico d'energia e così remoto l'idea che fossi a sei ore d'aereo dalla prima terraferma non mi faceva dormire ma tu pensa ti capisco Senti su Wikipedia c'è scritto questo Nicola Savino è un conduttore radiofonico conduttore televisivo autore televisivo registro radiofonico attore produttore cittadiscografico e imitatore italiano come diceva Woody Allen manca il cocco sulla pizza che gli hai messo ora quasi tutti i DJ di Radio DJ fanno tante cose però mi sembra di notare in te un particolare divertimento cioè mi sembra che tu te la goda veramente mi sbaglio oppure purtroppo Claudio temo che tu in questo caso stia sbagliando nel senso che dentro quest'area di grande leggerezza poi c'è c'è l'uomo soprattutto per quanto riguarda la televisione ossessionato dal risultato e questo perché purtroppo come nello spogliatoio di alcune odiose squadre di calcio vincere non è importante è l'unica cosa che conta io sono della Juve beh perfetto ma sono di Torino quindi ho il diritto però ma certo che sì però purtroppo questa scritta qua deve essere così non puoi fare sempre no quello che fa il basso profilo cioè bisogna bisogna avere il coraggio è certo infatti mi ha fatto molto ridere quando Abba Tantuono qualche giorno fa ti ha detto hai preso in mano anche la televisione e tu ti sei un po' imbarazzato sei rimasto un po' colpito ma allora perché la fai cioè si può anche non fare mi sembra che Albertino e Linus abbiano fatto molto bene a starsene un po' lontano però sembri molto attratto da questa calamita sì certo no io voglio dominare il mondo questo mi pare evidente insomma è pericoloso appunto non ci si consuma sì un po' sì però se no che stiamo qui a fare voglio dire no cioè un po' sì ci si gode un po' questo viaggio che è fatto di queste emozioni forti no anche ok e tu passerai la storia per la radio o per la televisione? sicuramente per la radio ormai è troppo tardi però 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 mi toglierò le mie soddisfazioni già me le sono tolte anche in televisione perché ho degli obiettivi molto chiari Sanremo beh sì evidentemente quello è che se uno fa televisione e non sogna Sanremo allora hai ragione smetti di farla poi magari non arriverà ma io già ho fatto quattro dopo festival dopo otto anni torna il dopo festival stiamo preparando questo programma sono io Nicola Savino e con me c'è la Giallapas Band mi sembrano tanti anche Giovane Old va un po' in questa direzione sì Giovane Old è un Sanremo Indie ecco mettiamola così buonasera ben arrivati alla quinta puntata del Giovane Old ma funziona ti chiamano e vai chiami tu c'è un agente no mi chiamano incredibilmente mi chiamano e vado incredibilmente mi chiamano e vado non me ne è capacito praticamente funziona che contrattate un prezzo del no c'è un agente la mia gente allora visto che stiamo parlando della storia di Radio DJ la mia gente che si chiama Graziella rispondeva al telefono era la centralinista di Radio DJ nel 1987 cioè capisci che due lotte di classe così non potevano non incontrarsi io il mio primo stipendio da tecnico del suono qui da fonico era di 980 mila lire e probabilmente nel 1989 quindi siete cresciuti insieme insieme insomma poi ci siamo un po' persi di vista poi ci siamo rivisti però questo noi ce l'abbiamo sempre molto ben presente siamo dei working class hero senti a proposito di quegli anni lì l'impressione in realtà è che vi divertivate molto e uno ascolta Pinocchio che è la prima cosa che ho fatto nel 1993 ha l'impressione di un momento storico in cui c'era la disco c'erano le discoteche e ve la siete molto goduta sì eravamo io credo che noi fossimo parte di un mito ma non ce ne rendevamo conto assolutamente e con chi giravi in giro per l'Italia ci sono delle serate con Fiorello sempre con Fiorello mi racconti quella serata in Riviera Romagnola in cui c'erano delle ragazze che avete poi non si può dire tutto questa è una cosa di Fiorello è vero però devo dire è vero allora succedeva questo in generale con grande rispetto poi perché tutte queste persone uno non c'è più che è il mio il mio amico e ex agente Franchino Franchino Tuzio che non c'è più che era agente anche di Fiorello nel senso che lavorava per Claudio Cecchetto che era l'agente di Fiorello diciamo che Frank ci portava poi in giro ma comunque chiudeva anche i contratti però facevamo tutto insieme e Fiorello e Franchino erano molto avvenenti molto belli erano proprio due begli uomini bei ragazzi ecco io ero più giovane di loro ero un tipo come diceva la mia povera mamma e e loro rimorchiavano come dei dannati loro portavano a casa sempre e io solo facendo la scarpetta di quello che loro portavano a casa insomma devo dire non me l'ha solo passata male ecco e una sera loro erano con due specie di pantere del materasso io invece rimediai una ragazza un po' più giovane d'altronde anche io ero più giovane ma meno disinibita delle loro non ne voleva sapere di avere diciamo un rapporto di amarmi completamente e allora mi sono stato dileggiato per anni per essere per aver passato tutta la sera a limonare con questa ragazza sul terrazzo con Fiorello e Franchino che mi spiavano dal terrazzo e ho detto limonare per essere elegante capito quanto è durato questo fino a che metà anni 90 dal 91 al 96 diciamo quegli anni quegli anni si è entrato a DJ nel 89 nel 89 quindi sono il primo aprile dell 89 più di 30 anni ormai quindi hai visto passare un mucchio di gente c'è qualcuno della radio che ti manca qualche voce qualche volto della radio che ti manca a cui sei particolarmente affezionato che rivolresti qui anche se non è più possibile magari ma allora è chiaro che tutta quella quel red pack per usare un termine hollywoodiano quella quella ballotta come dicono a Bollone insomma quel gruppo era un gruppo formidabile poi adesso non è più possibile no a volte la nostalgia copre un po' con un velo di bei ricordi delle cose che magari non funzionerebbero più però evidentemente Amadeus Fiorello Linus Marco Baldini quel gruppo lì è stato granitico e determinante per la storia di radio DJ ci sono delle altre figure secondo me che hanno dato molto a questa radio uno di queste per esempio si chiama Marco Biondi ha fatto tante ore di radio bene con grande professionalità e grande asciuttezza che forse è un po' quello che manca alla radio DJ di adesso buon pomeriggio ciao ragazzi sono Marco Biondi questo è Radio DJ nel nostro pomeriggio c'è un nuovo appuntamento che parte oggi parte questo lunedì come già annunciatovi nei giorni scorsi parte Pop News è una radio a suo modo ti dirò difficile da ascoltare perché è molto autoriferita è una storia da quasi da conoscere da capire da metabolizzare non è facilissimo ci sono pochissime donne molto maschili sì beh perché è un po' il circolo della la dico male della birra media del cameratismo delle flatulenze giù a ridere purtroppo questo è il nostro ambiente è fatto così e e questo va al di là della gender equity non so come dire è andata così ecco è molto interessante secondo me per quanto mi riguarda io sono capitato qui che avevo 22 anni sono cresciuto tra donne perché mio padre era sempre all'estero avevo due sorelle femmine e la mamma che mi hanno cresciuto e le prime figure maschili al di là dei miei amici che però ho frequentato poco perché sono sempre stato un sottone io come si dice sono sempre stato fidanzato io non ho mai avuto periodi molto lunghi senza la fidanzata e quindi quando le prime volte mi relazionavo con le figure maschili magari più grandi di me di questo posto di radio dj che il lunedì mattina mi raccontavano di conquiste fatte nel weekend con facilità e come dire snocciolate enunciate come se fossero delle birre bevute pensavo che il rapporto tra uomo e donna fosse questo e questo mi si sono voluti poi 5-6 anni di analisi a 35 anni 40 anni per capire che non era esattamente così che andava che tanti scudetti tanta figaggine questo è stato importante perché proprio cresci con una realtà che è distorta una curiosità a proposito di donne e uomini hai mai convissuto con qualcuno che non fosse Manuela? no che non fosse Manuela sì io sono stato sposato con una donna e ho vissuto con lei sostanzialmente per 9 anni 8 anni sono da 91 a 99 sono 8 anni e se sono qui adesso è stato anche per quell'esperienza lì naturalmente e il tragitto è sempre stato periferia di Milano Milano non hai mai vissuto fuori periferia di Milano Milano no quelle volte che sono andato per lavoro fuori sono andato magari a Roma a fare dei lavori mi sono trovato allora sono state esperienze formative però un paio di volte mi sono messo a piangere cioè ok non si è abituato a stare fuori no no ma guarda credo che tutto quello che ho detto riguardo al rapporto con le donne rapporto con Milano sia ascrivibile al peccato di Mammone cioè proprio è la mamma quella cosa lì no cioè quindi Milano perché piango perché voglio la mamma che è Milano perché sto sempre con la fidanzata probabilmente perché stavo con la mamma adesso poi ho imparato un po' a scindere le due cose questo è un podcast sulla psicanalisi non so se vede andiamo alla radio comunque perché è veramente interessante no andrei avanti a parlare di Matti di tua figlia adesso ma guarda quello che vuoi veniamo a DJ Chiamo Italia che è la ragione per cui poi sei tu sei tu com'è che si passa da fare il fonico a fare la spalla di Linus e poi a fare il co-conduttore casualmente casualmente nel senso che io ho una specie di ossessione per la didascalia io credo che ma sbagliando naturalmente credo che la gente non sappia niente invece non è vero perché la gente sa benissimo sa molto di più di quanto io immagini e allora io già non facevo più il fonico già avevo appeso non è vero le cuffie al chiodo perché avevo già iniziato a fare un po' l'autore in televisione e ho avuto una breve parentesi in cui non sono stato a radio DJ io nella diaspora del 1994 ho seguito Claudio Ciacchetto a Radio Capital perché io ho sempre avuto in testa la televisione e mi sembrava che Claudio fosse una specie di ponte verso la televisione in effetti poi è un po' stato così più per Amadeus che per Claudio ma nel senso che è andata così anche lì non c'è stato dolo Amadeus mi ha coinvolto a fare il suo autore al Festival Bar nel 1996 poi mi sono accorto che non lì le cose non andavano e veramente mi mancava la mamma anche lì mi mancava la DJ sono tornato indietro ma non sono tornato indietro a fare il fonico perché non avrebbe avuto senso e questa è stata una buona idea di Linus dice no a fare il fonico secondo me è veramente sono tre passi indietro piuttosto visto che hai una qualche abilità creativa cerca di impostare un qualcosa di creativo per la fascia oraria tra le 13 e le 14 piano piano ho iniziato a fare questo lavoro con i fichi d'India siamo i fratelli di Salvo io Remo e Salvatore mio padre si chiamava Salvatore mia madre si chiamava Remo con Giacomo Valenti 0 3 3 7 che è il nuovo trasmissione di scherzi telefonici di Radio DJ benvenuto Nicola con Marco Baldini c'era una fascia ogni giorno andava in onda uno diverso con diciamo con successi alterni dopo dopodiché seguivo anche Linus e Linus ha iniziato casualmente a dire ma cosa direbbe l'uomo della strada allora questa mattina dedicheremo buona parte della giornata appunto al commento degli EMAs lo faremo non soltanto noi due da uomini della strada o della radio lo faremo in compagnia di voci autorevoli tra lo molto arriveranno come già preannunciato i nostri amici Dolce e Gabbana che se la forse avete visto nel ruolo anche di premiatori sarà qua tra un quarto d'ora o venti minuti certo che devo dire che mentre premiavano quella categoria tutti a chiedersi ma chissà chi vincerà io da lontano timidamente ho iniziato a dire delle cose tanto che le prime volte arrivavo anche in ritardo ma in ritardo vuol dire che arrivavo alle 10.40 al posto di arrivare alle 10 perché magari avevo fatto bagordi la sera prima e poi perché avevo mezz'ora di strada da San Donato a qua mi ricordo un giorno in cui Linus mi disse senti allora tu o arrivi in orario o se no smettiamo qua ecco quella cosa lì io devo dire forse mi ha salvato un po' la vita perché ero piuttosto birichino negli anni 90 invece quella cosa lì mi ha un po' regolarizzato e quindi davvero ma lui non lo sa non lo sa neanche sai che ognuno di noi dice o fa delle cose con il terzo con un altro che non ricordano e sicuramente non lo ricordano quindi cambiano la vita all'alto senza che mi ricordano guarda veramente mi ricordo un giorno ma dice guarda se vuoi venire vuoi continuare a venire devi venire qua almeno alle 9 e mezzo devi essere puntuale e io mi ricordo di colpo per due anni di fila smisi di bere alcolici ne parlo spesso di questa faccenda degli alcolici probabilmente ha un peso dalle mie parole infinitamente superiore a quello che poi ha in realtà perché non non mi definirei un alcolista due curiosità l'autore cosa vuol dire che ti siedi e scrivi dei testi per Amadeus l'autore del festival bar non mi voglio buttare giù o sminuire come capirete non scrive esattamente l'Ulisse di Joyce sì però è difficile anche quello però è molto difficile perché devi mettere da parte il tuo ego e scrivere poche cose molto brillanti e molto efficaci per chi sta guardando devi portare per mano il telespettatore in poco tempo mi ha insegnato io ero il ragazzo di bottega di Eddie Berni che era un autore ed era ed è un autore televisivo molto brillante che mi ha proprio insegnato questo lavoro qua che è un lavoro artigianale fatto di uso di parole che non possono essere troppo difficili ma nemmeno troppo semplici non bisogna prendere il telespettatore perfesso e lì lavoravi in un team io e Eddie il team era io e Eddie ah ero te il due soltanto sì sì con Lino sempre tutto bene io mi ricordo due liti io parlo del festival bar sì certo poi in altri ho visto che hai fatto mille altre cose sì in cui immagino che i gruppi di lavoro fossero più ampi più ampi guarda anche lì un altro piccolo colpo di genio inspiegabile devo dire Giorgio Gori l'attuale sindaco di Bergamo fa molto sorridere adesso ripensarci mi vide al festival bar e disse questo qua questo ragazzo deve fare le iene deve fare la seconda edizione delle iene e mi prese per fare un'edizione delle iene senza la scenografia guardate che la scenografia in televisione è una cosa cioè lo studio televisivo è un capannone industriale che viene inscatolato con una scenografia che costa dei quattrini se togli la scenografia rimangono delle brutte pareti insonorizzate e Gori idea geniale devo dire e non mi deve nulla cioè non è che lo dico per piageria o non gli devo nulla togliamo la scenografia e mettiamo quest'autore qua un carne ad assoluto uno che non aveva mai fatto nulla avevo fatto un festival bar e mezzo due festival bar bene è stato un successo ma un successo strepitoso e poi ha preso ovviamente non per me ha preso Fabio Volga Andrea Pellizzari anche qui due esordienti cioè pazzesco proprio strike e questo è il genio era la serie in cui facevi Maurizio Costanzo un po' dopo ho iniziato a fare Maurizio Costanzo certo io entro sempre in punta di piedi io sono un brevilineo non voglio non voglio lasciare traccia sono un sommergibile sarei un massone perfetto ma non sono iscritto alla massone chissà mai se sei qui forse un triplice un abbraccio a tutti senti torniamo con la questione rapporto con Linus che per me è interessante perché Linus non mi sembra uno facilissimo dal punto di vista umano credo abbiamo infinite virtù perché siamo a casa sua però non deve essere uno facilissimo ma secondo me guarda se io questa è la cosa che dico sempre se il mondo fosse fatto di Linus sarebbe un posto migliore perché l'umanità sommariamente è divisa in due cestoni i buoni e i cattivi e lui è nel cestone dei buoni ma dei buoni ma anche dei super precisi quello potrebbe farlo essere nel cestone dei cattivi perché il cattivo come dire scrive i nomi delle sue vittime con precisione però è un tenerone e si dimentica esatto porto molto più rancore io di lui lui non porta rancore quindi la rite su Sarabanda che mi ricordo ancora adesso con un trauma ho capito ma dei gipsi ridono di Roreal ma tu la sapevi you to me are everything the real thing no però vale il gipsi king di Roreal però è più famosa due to me are everything cioè no ma si chiuderla siamo molto competitivi tutti e due e siamo sicuramente in competizione ancora adesso noi siamo il Tao siamo quei due cosi bianchi e neri che si attraggono e si respingono è evidente che abbiamo una rivalità feroce però funzionate molto bene e beh certo noi siamo una volta Enrico Ruggeri mi ha detto questo vedi i Rolling Stones ci sono Mick Jagger e Keith Richards uno più uno da cinque non fa due fa cinque e adesso con le dovute proporzioni però mi sento di dire che ha ragione ti stavo per chiedere se ti sei fatto degli amici in televisione ma ti chiedo se ti sei fatto degli amici in televisione in radio mi pare tu hai un rapporto molto bello con DJ Angelo per esempio che voglia di sentire signor Kevin quello che vende i vinili chissà se hai questa voglia chi sono io per negartela bravo buongiorno Kevin si beh Angelo è una persona a cui tengo molto forse possiamo dire che se Linus è una specie di fratello maggiore io mi sento magari sbagliando il fratello maggiore gli dice Angelo me ne prendo cura anche perché ha una salute cagionevole diciamo che mi preoccupo però lo tutelo anche e devo dire credo che il pubblico italiano più che altro quello televisivo ed è una grande ingiustizia non l'abbia secondo me capito cioè lui è nel campionato dei giganti per me è nel campionato di Nino Frassica Mago Forest Cacioppo per esempio ci metto Massimo Bagnato insomma ce ne sono molti di quella stirpe la stirpe dei comici un po' paradossali che vanno tutelati sono molto d'accordo con te altri amici del giro qualcuno che ti è rimasto che ti è caro veramente a me guarda caro io vado d'accordo con quelli che parlano il mio linguaggio quindi ho un rapporto buono per esempio con Luca e Paolo ho un rapporto buono con la Jalapas Band ho un rapporto buono con Diego Battantuono maschi però dio mio dai si si è così hai ragione passiamo un altro il talento comico dove l'hai scoperto perché i personaggi che hai fatto con DJ Angelo e Roberto Ferrari sono bellissimi io sono affezionatissimo a Galeazzi pronto chi è un ritorno Gian Piero Galeazzi ciao grandissimi valubino eccetera ma bisogna passare anche un test psicoattitudinale per venire qua non è che viene qua gente l'ultimo perla che passa come nascono quelle cose guarda in genere il soggetto lo porto io cioè facciamo questo la sceneggiatura la fa DJ Angelo cioè le parole che dice quello come dire sono di DJ Angelo ma l'idea di fare il personaggio come deve piacere a me deve calzarmi e quindi gliele propongo però a volte propone anche lui spesso quindi pomeriggio lui si mette lì e scrive i testi purtroppo la mattina la mattina stessa e scrive una quantità di testo della quale in genere va in onda il 60 50% c'è tanto di quello scarto è una creatività assoluta è veramente un genio io trovo che sia un genio e non è considerato tale perché siccome maneggia cose leggere leggerissime e poi non si vende uno che è sempre in sottrazione un timidone e quindi non è considerato ma è una cosa infatti quando prima ti ho nominato alcuni comici dell'Olimpo tra di loro si riconoscono si annusano cioè Forest ho parlato con Forest di DJ Angelo e dice quello è un lavoro sublime sono delle poesie le cose e questo non è male però sembra funzionare solo con te in televisione non credo possa avere uno spazio perché non lo amano perché non lo amano quanto lo amo io davvero io mi pongo anche un po' il problema ogni volta sembra che mi porto dietro questa specie di fardello ma invece se lo merita tutto perché lo dico con grande rispetto verso le altre persone che hanno lavorato con me ho fatto l'ultima cosa con lui è stato il Giovane Old un programma di formazione così l'ho chiamato perché parodiando il romanzo di formazione il Giovane Olden e il fatto che fossimo una formazione allora sentiamo il risponso della mattina sul sogno nel cassetto di Brunore Sass ma ma adesso il mio sogno nel cassetto è di fanno duetto con Mick Jagger che invece mi ritrova a Mobrici che per carità è pure una brava persona ma la prima volta che l'ho invitata a cera a casa mia mi ha rubato una ceneriera quindi in questa formazione c'erano sette comici molto giovani sei di sette molto giovani molto bravi li rispetto sono stati bravissimi loro stessi alla fine sono venuti da me e mi hanno detto ragazzi non c'è stata gara ci ha asfaltato cioè e questo vuol dire tanto dove si va di qua cioè cosa vuoi fare dopo allora la televisione me l'hai detto sei uno dei pochi che non ha scritto un libro o sbaglio? no non ho mai scritto un libro ho scritto un libro solo per beneficenza per bambini che era una favola che raccontavo a mia figlia quando era piccola in cui una bambina aveva delle lacrime che sapevano di fragola e gli altri bambini andavano lì a farla piangere a ciucciare le lacrime e la fattina gli ha detto guarda ti faccio diventare le lacrime di pupù ecco questo è il mio è il mio libro per bambini però la tentazione di raccontare la tua vita che viene a tutti i cinquantenni per adesso non c'è stato no 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 mi accontento di qualche articolo un po' lungo sul foglio e poi ho un bello sfogatoio qui cioè non so se io leggerei il mio libro non volevo invitare no 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 per nulla per nulla devo dire la verità con anche molto pudore me l'hanno chiesto sì immagino tipo tutti ecco come mi hanno chiesto tutti questa è una cosa che stupidamente ma anche ma anche non stupidamente non ho mai fatto valere tutte le radio forse tranne una quella di Roma mi hanno chiesto di venire di andare a lavorare con loro perché? perché volevano togliere una gamba al tavolo e allora io questo giochino che l'ho capito devo dire non l'ho mai neanche fatto valere no? guarda mi vogliono di là dammi l'aumento no non mi interessa sono molto contento quindi i prossimi 20 anni possiamo contattare sì credo di sì c'è una guerra di nervi tra me e Linus su chi molla prima e quindi io non credo lui è più giovane di alcuni anni esattamente io sto aspettando però ecco guarda c'è una sola cosa una che mi pesa non poter andare via un mese a febbraio a farmi i fatti miei ma ci arriveremo magari con le macchinette con questa roba qua ma sì ci arriveremo ci arriveremo la lezione dalle joadelle sì adesso devo dire che il covid ci ha aiutato sì ci ha aiutato l'ultima domanda è quella che ricorre spesso è quella what if no ma non è possibile che sia l'ultima dobbiamo fare un'altra puntata ma non abbiamo detto niente il tempo vola quando ti diverte che avresti fatto se non questo hai qualche talento particolare te la carico le mani o qualcos'altro no guarda allora sotto un ponte no sotto un ponte non credo credo un piccolo borghese infelice perché come diciamo che è la realtà pensa che è mazzata è la realtà da cui vengo e no è così cioè probabilmente sarei stato a Leni molto probabilmente ma col grande rispetto che ho per Leni ma chi è chi mi ascolta in questo momento del Leni capirà essendo di Metanopoli il destino era quello lì stiamo parlando dell'Italia degli anni 80 era un'altra Italia quindi sarei stato quello e ahimè è passato il tempo a nostra disposizione toccherà rivederci quanto le devo 100 euro sono io che pago qui sono io che pago qui facciamolo ogni giorno ma non da domani diciamo pensiamoci per il futuro va bene grazie Claudio grazie mille grazie Forti Forti 40 anni di Radio DJ in 40 minuti è un podcast scritto da me che sono Claudio Giunta in redazione Alessandra Patitucci riprese e montaggio Franco Russo supervisione tecnica Gabriele Rosi responsabile della produzione Tennis Tucchi una produzione One Podcast Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti